Il mondo dei social media e quello della fotografia sono strettamente correlati e oggi vado a parlarvi di quello che io reputo essere un errore, che ho notato essere molto frequente sui social media, sia da parte di fotografi professionisti sia da parte di amatori. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come di consueto oggi parliamo di fotografia. In particolare vado a raccontarvi una cosa che ho notato, una sorta di deriva che non è nuova, c'è sempre stata, l'ho rinotata di recente connettendomi su Instagram, dovete sapere che io Instagram non è che lo stia usando poi tanto, perché è una piattaforma da cui mi sento respinto costantemente, nel senso che i contenuti che vengono pubblicati non rispecchiano quello che io voglio vedere, i contenuti che vengono richiesti non rispecchiano quello che io voglio fare, insomma è una piattaforma che in questo momento non fa per me e quindi mi connetto molto poco su quella piattaforma, mi connetto molto di più qui su YouTube, ma questo è anche inutile stare a dirlo. La cosa che ho notato qual è? Ho notato che molte persone, e magari c'è anche qualcuno di voi all'interno di questo calderone, per cui state attenti, alcune persone tendono a mettere la strumentazione che utilizzano in descrizione sul loro profilo di Instagram. Vale per qualsiasi social in realtà parlo di Instagram, ma se lo fate su un'altra piattaforma ascoltate lo stesso perché sto parlando anche di voi. Ora però, prima di cominciare, vi invito, se questi argomenti vi interessano, a rimanere sempre sintonizzati iscrivendovi al canale, cliccando il bottone qui sotto e attivate anche la campanella per non perdervi le notifiche. Lasciate anche un like a questo video, soprattutto se, avendolo visto fino alla fine, vi sentirete arricchiti e avrete imparato qualcosa di utile. Ma prendiamo il toro per le corna. Perché vi parlo di questo argomento? Beh, insomma, mettiamola così. Nel momento in cui io mi approccio sui social media come professionista, tendenzialmente non metto la strumentazione che utilizzo. Io è una mia scelta personale che poi vi vado a motivare. Rimango per cui stupefatto nel momento in cui vedo qualcuno che decide invece di farlo. Vi illustro brevemente il mio punto di vista, dopodiché possiamo andare un pochettino più nel dettaglio ad analizzare la situazione. Per quanto mi riguarda, io non è che faccio il fotografo su Instagram. Io sono un fotografo nella vita e quindi da quel punto di vista io non ho bisogno di andare a specificare dettagli come la strumentazione che utilizzo. È un po' come se, passatemi il termine, io la vedo come se Michael Jordan nel suo profilo scrivesse Michael Jordan, giocatore di basket, scarpe Nike Air Jordan. Cioè non ne ha bisogno. Lui è quella cosa lì. Non ha bisogno di farti vedere che sta utilizzando quelle scarpe. Addirittura c'è il suo nome sopra. Ho preso un caso un po' limite, però avete capito che cosa voglio dire. Nel momento in cui io sto facendo quella cosa lì, non ho così bisogno di renderla palese addirittura mettendo in mostra questi minuziosi dettagli della mia attività. È un po' come, ecco mettiamola così, è un po' come se io vi dicessi che faccio il fotografo e che faccio il videomaker e che uso microfoni Rode. Cioè non ce n'è bisogno. Faccio il videomaker, punto. Prendi per buono quello che ti dico. Non è che ti sto a dire la marca di ogni singolo cavetto che sto utilizzando. Io la vedo un po' così, il mettere la strumentazione che si utilizza nella descrizione di Instagram. Adesso però andiamo a cercare di capire che cosa significa per chi la legge. Ovviamente lato pubblico, diciamo che a me personalmente interessa molto poco, salvo che anche lì poi possono esserci delle complicazioni. Lato pubblico, io vado sull'account di un'altra persona, vedo che mi mette un elenco di strumentazione, non capisco niente, finita lì, non è successo niente, però ho sprecato dello spazio, ho sprecato dei caratteri. Perché comunque se sono un fotografo, io dopo è scontato che se sono un fotografo e sto sui social il mio obiettivo è quello di far vedere quello che sto facendo, di raggiungere più persone possibile, di raggiungere con la mia fotografia delle persone e emozionarle, coinvolgerle e magari farle iscrivere, perché così continueranno a emozionarsi, a essere coinvolte dai miei contenuti. Ora se io come unico gancio per chiedere alle persone di iscriversi al mio canale gli metto Fuji X-T2 o Canon EOS R5 e magari gli metto pure la lente, magari gli metto pure il flash che sto utilizzando, c'è uno da fuori, guarda e dice ma che è sta roba? Cioè io volevo magari, magari mi piaceva questo fotografo perché pubblicava dei bei paesaggi, cosa me ne frega a me di con cosa sta scattando? Questo lato pubblico, lato pubblico al pubblico non gliene frega niente della strumentazione che stiamo utilizzando. Lato amatori o comunque addetti ai lavori, io vado sul profilo di un mio collega o neanche di un mio collega, magari è un amatore totale o magari non è nemmeno un fotografo, è semplicemente uno a cui hanno appena regalato qualcosa, una macchina fotografica, che si è appena comprato una macchina fotografica e sente il bisogno di riempire lo spazio della descrizione di Instagram o del social su cui si va a posizionare, con la strumentazione che utilizza. Io da professionista penso, ok, non c'era qualcosa di meglio che mi potevi raccontare? Perché se siamo più o meno sullo stesso livello, se siamo più o meno fotografi con pari abilità, che tu mi dica che stai usando una R5 o che tu mi dica che stai usando una Sony Alpha o che tu mi dica che stai usando una Olympus, non dovrebbe esserci tutta sta differenza. Perché salvo rarissimi casi in cui dici, no sai, devo fare un cartellone 6x3, mi serve la Hasselblad. Ok, va bene, è un caso particolare. Qualcuno di voi ha mai scattato con una Hasselblad per un 6x3? Io no. Scrivetemelo in un commento se qualcuno di voi ha scattato con una Hasselblad per un 6x3, ma ne dubito perché se questo fosse il caso non stareste guardando un mio video, avreste altro da fare. Quindi salvo rarissimi casi, se io sono un fotografo e tu sei un fotografo, se ci facciamo scambio di fotocamere, sì, possiamo stare un po' meno comodi, ma il lavoro dovremmo portarlo a casa lo stesso nella maggior parte dei casi. Quindi quell'informazione lì, tradetti al settore, non è molto utile. Attenzione, posso capire che magari un altro fotografo possa avere piacere a vedere come è stata scattata la foto e quello posso anche capirlo, però allora io andrei a mettere, lo andrei a mettere nella descrizione del singolo post magari. Cioè, post tal dei tali, fotografia, racconto la rava e la fava, lo scattiamo, scattata mentre ero in bagno e mi sono fotografato gli alluci con luce naturale e ti metto le specifiche di come l'ho scattata. Questo posso capire che possa avere una rilevanza, però quando io vedo nella descrizione che uno ha utilizzato una Nikon Z9 e poi però ha utilizzato anche iPhone e poi però ha utilizzato anche Samsung, c'è l'elenco completo di tutte le fotocamere che usa, a quel punto dico, ma e quindi? Cioè, come faccio io a capire che cosa hai usato? Come faccio a capire? Cioè, mi stai spiattellando le cose che ti sei comprato, perché alla fine si riduce tutto a questo. E quello che vi voglio dire non è che vi sto puntando il dito e vi sto dicendo state flexando la vostra strumentazione, no, vi sto dicendo guardate che non sono io a pensarlo, sono gli altri a pensarlo, perché questa è l'impressione che diamo nel momento in cui facciamo una cosa di questo tipo. Quindi quello che dico è attenzione, perché lato pubblico nessuno capisce quello che avete scritto e quindi potevate scrivere un'altra cosa. Era meglio se scrivevate, sono un fotografo, seguimi, faccio belle immagini. Era meglio. Lato professionisti o comunque addetti ai lavori, sembra che stiamo flexando la strumentazione che ci siamo comprati. Ah, io ho la R5, ah, io ho la Sony Alpha 7S III. Sì, cioè, non gliene frega niente a nessuno. Chiunque può permettersi quella roba se è un addetto ai lavori, ce l'abbiamo tutti una fotocamera di quel tipo, tra di noi non ci interessa così tanto sapere che cosa, anche perché un amatore può essere interessato a capire che cosa abbiamo utilizzato, ma un altro addetto ai lavori non gliene frega niente. Lui ha già il suo metodo di lavoro e quindi vedere il metodo di lavoro di un altro lascia un po' il tempo che trova. Ma arriviamo al vero problema, ovvero il motivo sommo per cui io non farei mai una cosa del genere, che esula un po' da quanto detto finora. Posto poi che ognuno fa quello che vuole, cioè se avete appena comprato una fotocamera costosissima e volete assolutamente metterlo in descrizione perché reputate che non ci sia niente di più figo della vostra ultima compera da mettere in descrizione, fatelo pure. Io vi metto solo in guardia da quelli che sono i contro nel momento in cui lo fate. Lato professionista, quindi nel momento in cui io mi approccio a un potenziale cliente, a un'azienda, in una qualunque situazione dove può essere richiesto un mio intervento. E io sto esplicitando da subito che cosa utilizzo. Questa cosa è sbagliatissima, è sbagliatissima ma per un'infinità di ragioni. Ve ne dico una su tutte. Il mio cliente sta cercando un fotografo con determinate caratteristiche e determinata strumentazione. Vede che io uso una cosa diversa e io sono scartato automaticamente. e questo è sbagliatissimo per me perché tenete conto che io posso prendere un cliente che vuole una roba diversa da quella che io utilizzo di solito. Mi capita un cliente che mi dice no guarda questo lavoro va fatto con Sony e io a noleggio una Sony, la prendo in affitto, la rubo, cioè qualunque cosa, però il cliente lo prendo prima di farmi dire no perché ho messo che uso Canon, capito? Quindi mettere la strumentazione secondo me è sbagliatissimo perché ci preclude tutta una serie di ingaggi che altrimenti avremmo potuto prendere non veniamo nemmeno contattati perché uno dice ah questo qui usa questa roba qua a me non va bene. E invece no, invece no tu mi devi contattare e te lo dico io se ti posso fare il lavoro oppure no, te lo dico io se ho a disposizione quella strumentazione. Questo è il primo motivo che proprio ci sega le gambe perché lì non esiste competizione a quel punto uno va su Instagram e cerca il fotografo che sta usando la Olympus perché vuole quella roba lì e quindi tutti quelli che hanno messo che usano Canon EOS RP vengono scartati automaticamente il lavoro potevano farlo benissimo lo stesso. Magari il cliente neanche ne capiva, ti ha chiesto la Olympus però poi neanche sta a controllare se invece vuole proprio la Olympus la affitti non è un problema però il cliente te lo prendevi lo stesso se non avevi commesso questa imprudenza. Secondo motivo nel momento in cui un cliente mi ingaggia per fare un lavoro, quale che sia questo lavoro, lo decido io che cosa portarmi dietro. E se è un cliente che voleva un cartellone 6x3 io posso decidere di portarmi la Hasselblad. A proposito io non ho una Hasselblad, se qualcuno me la vuole regalare lascerò il mio IBAN da qualche parte, fatemi pure questo regalo. Però decido io che cosa portare, capito? Nel momento in cui serve la Hasselblad io non è che sto a dire al cliente il cliente mi deve dire io voglio un 6x3 e io al cliente rispondo benissimo ti faccio il 6x3. Non gli sto a dire allora mi porto la Hasselblad, no lo decido io che porto la Hasselblad perché sono io che so che cosa mi serve. Nel momento in cui viceversa un cliente mi dice, e ce ne sono tanti, sono tantissimi, cliente che mi dice guarda mi serve un servizio fotografico per Instagram. Cioè io faccio, cavolo ne so, vi faccio un esempio reale, io faccio delle statuine di porcellana piccole così dipinte a mano che vendo tra i 10 e i 18 euro al pezzo. Cioè è una roba easy voglio dire, non è né lusso né un prodotto, cioè quando mi capita di fotografare una cucina, fotografi una cucina, un allestimento, uno showroom, una cucina che costa 40.000 euro, lì ci vuole un certo tipo di attenzione e anche un certo tipo di strumentazione magari perché il cliente se l'aspetta. Nel momento in cui dici guarda sono dei robini piccoli così, finiscono solo su Instagram, vengono venduti a 10 euro l'uno, ma il cliente lo sa, il cliente lo sa benissimo che non vivrà mai di quella roba lì, lo sta facendo così per vezzo perché ha aperto l'e-commerce, vuole vendere queste cose, ti piace pitturare, fare la ceramica, va bene, il lavoro glielo fai lo stesso, ma non vai con la Hasselblad a fare quel lavoro. E se tu hai messo nella tua descrizione che usi la Hasselblad, quel cliente lì ti chiede magari la Hasselblad perché dice eh no ho visto che usi la fotocamera fotonica incredibile da 40.000 euro, voglio che mi fotografi i miei robini piccoli così con la fotocamera da 40.000 euro. E non era proprio il caso, non era proprio il caso perché un lavoro del genere per Instagram, cioè sto scattando con una fotocamera appunto che costa 40.000 euro, quindi la sto usando. Le digitali non è che sono esenti dall'usura, si usurano, quindi io usando la mia Hasselblad da 40.000 euro per fotografare un prodotto da 10 euro, sto facendo un errore strategico gigante. È come se stessi usando una Ferrari per andare a fare la spesa. Non si usa la Ferrari per andare a fare la spesa, la Ferrari si usa per godersi l'esperienza d'uso o magari per andare veloce se sia in pista, non per andare a fare la spesa. Andare a fare la spesa usi la Panda, usi un'utilitaria, usi una macchina col bagagliaio più grande, perché è la scelta migliore. Esattamente allo stesso modo, se dobbiamo fare un servizio fotografico di robine piccole, di poco valore, con l'unico target di social, è inutile che andiamo con la nostra fotocamera super mega figa, super mega lusso, perché non serve quella roba lì, non serve la Hasselblad con tutti quei megapixel, con tutta quella risoluzione, perché tanto poi a foto si vedrà piccola così sulla paginetta di Instagram. Quindi non dico di farla col telefono, però una reflex entry level andrebbe benissimo, non serve nemmeno la mirrorless per fare quel tipo di lavoro lì. E alla fine della giornata il mio cliente deve solo interessare che io gli porti a termine l'incarico che lui mi ha affidato come o con cosa dovrebbero rimanere unicamente affaracci miei. Questo per una questione mia, di sicurezza mia, di tranquillità mia e di flusso di lavoro mio, anche perché se gli devo fare 200 foto da 12 megapixel che vanno su Instagram è un conto, se gli devo fare 200 foto da 100 megapixel che poi devono finire su Instagram, ma io ci metto un mese a post produrre tutte quelle foto così grandi e poi a rimpicciolirgliele in maniera tale da mettergliele su Instagram. Ho fatto la scelta peggiore in assoluto. E purtroppo però se io mi pongo come, non come fotografo, cioè io cerco di pormi come fotografo, io sono competente, sono un professionista competente, ti faccio il lavoro, punto. Se io mi pongo così poi ho più margine di manovra per prendere le scelte che reputo più opportune con quel determinato cliente. Nel momento in cui io mi pongo come possessore di Hasselblad, eh cavolo sei un possessore di Hasselblad e non la porti. A quel punto c'è qualcosa che non va, c'è una dissonanza cognitiva nella testa del cliente che quantomeno ha letto Hasselblad e poi vede che ti presenti con un Olympus e dice ma quella che hai dichiarato non l'hai portata per fare il lavoro per me, com'è questa storia? Non è bello, cioè disattendi un'aspettativa comunque. Quindi secondo me è assolutamente sbagliato a livello professionale dichiarare la strumentazione. Per questi motivi fondamentalmente il primo è che la strumentazione può cambiare in base alle contingenze, quindi se serve un'altra cosa, tipo mi avevano proposto un lavoro di recente, poi è saltato a causa del maltempo, sapete le alluvioni che ci sono state, quindi il lavoro purtroppo è saltato, mi avevano proposto un lavoro che io non potevo fare con la mia strumentazione. Non ho detto no, non te lo faccio, ho detto sì, il lavoro si fa. E poi il fatto di dover noleggiare, dovevo noleggiare un teleobiettivo fondamentalmente, avrei preso un 600 mm, un 400 mm, qualcosa del genere, l'avrei noleggiato ma senza neanche dirglielo. Non è che gli sto a dire eh guarda non te lo posso fare, però forse riesco a trovare il modo. No, dico sì, il lavoro si fa e poi sono cavolacci miei a fittarmi una cosa e gliela metto dentro nel preventivo, l'affitto della strumentazione supplementare gliela metto come voce di preventivo, non deve diventare un problema. Non deve essere un problema per il cliente, tantomeno deve diventare un problema mio. Però se io avessi dichiarato dentro nella mia descrizione di Instagram le cose che avevo, non mi avrebbero nemmeno chiesto di farlo quel lavoro, perché hanno detto questo qui il teleobiettivo non ce l'ha e quindi niente, non è la persona giusta. Io il teleobiettivo non ce l'ho perché lo uso una volta all'anno e quindi non mi va di spendere 3.000 euro per comprarmi il teleobiettivo super zoom per poi usarlo una volta all'anno. Quella volta all'anno spendo 100 euro e lo affitto per due giorni, preferisco così. Per cui questi sono i motivi per cui secondo me è sbagliatissimo mettere l'elenco della propria strumentazione nelle descrizioni dei social e anche sui siti web. Secondo me nel momento in cui qualcuno si interessa al nostro lavoro, a quello che stiamo facendo, o ce lo chiede in privato e allora decidiamo noi se rispondere, ma scoprire subito le carte e raccontare la rava e la fava di quello che usiamo secondo me è sbagliato. Ma non perché dobbiamo tenerci segreti nascosti, perché poi se uno lo chiede, cioè mi chiedi cosa uso, io te lo dico, ti dico anche le impostazioni, non me ne frega niente. Il punto è che decido io cosa dirti però. Bene amici, a questo punto vi chiedo che cosa ne pensate? Voi mettete la strumentazione sui social media o sul vostro sito o in qualunque altro posto dove avete la possibilità di scrivere? Voi specificate sempre che cosa utilizzate? Specificate ogni singolo pezzo che avete in casa, in borsa, per portare a casa i vostri lavori fotografici? Fatemelo sapere in un commento. Vi ricordo anche che per rimanere aggiornati su eventuali risposte che seguiranno a questo video vi consiglio di iscrivervi adesso attivando anche la campanella così non vi perdete i prossimi aggiornamenti. È stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e vi do appuntamento al prossimo video.